la leader di fratelli d'italia gli ucraini vanno accolti perché sono veri profughi non migranti economici nessuna vicinanza con putin la russia è un'altra cosa giusto aiutare l'ucraina giorgia meloni leader di fratelli d'italia ieri in diretta su corriere.it ora sul giornale mai avuto dubbi sul fatto che l'italia faccia parte debba far parte dell'alleanza atlantica sempre con spirito attento e critico perché non mi piace la tendenza di buona parte della politica italiana a fare da cheerleader di leader e nazioni stranieri e poi perché i veri amici ti dicono quando stai sbagliando ma adesso con un conflitto armato non c'è spazio per i distingo è il momento della compattezza e del coraggio è un'aggressione inaccettabile terribili le immagini che vediamo ogni giorno la reazione patriottica anche inaspettata dell'ucraina ci dà una responsabilità in più dobbiamo difendere l'integrità di una nazione sovrana il nostro governo si sta muovendo bene bisogna mandare le armi agli ucraini è giusto che il governo resti compatto e unito alla comunità internazionale e in sinergia con gli alleati armi i latini dicevano si vis pace em parabellum se vuoi la pace prepara la guerra pensare che si risolva tutto abbondando gli ucraini non ha senso una sconfitta rovinosa di chievi provocherebbe un effetto domino per tutto l'occidente anche con la probabile invasione di taiwan da parte della cina le conseguenze per noi occidentali sarebbero gigantesche per cui il governo fa bene così e vada avanti abbiamo votato la risoluzione con tutto quello che comporta piuttosto non vedo l'autorevolezza tanto decantata del governo draghi mi sembra sistematicamente escluso dai vertici mi dispiace per l'italia